Cari bambini, un grande saluto dal vostro maestro Sergio. Anche oggi sono qui con una nuova video-lezione che, anche questa volta, ho preso in prestito dal nostro libro Terra-Mare Matematica di Quinta. La video-lezione di oggi riguarda le espressioni. Le espressioni. Adesso vediamo un po' di capire come funzionano questi particolari calcoli matematici, questi algoritmi. La rissa si allena per la corsa e per 5 giorni alla settimana compie lungo la pista 13 giri di corsa e 12 giri di marcia. Quanti giri compie in tutto nei 5 giorni di allenamento? Per risolvere questo problema puoi usare un'espressione aritmetica, cioè un insieme di numeri legati tra loro da segni di operazione. Ecco qui vedete la rissa. Se non ci sono parentesi, prima si eseguono moltiplicazioni e divisioni nell'ordine in cui sono scritte, poi addizioni e sottrazioni sempre nell'ordine in cui si presentano. Le parentesi indicano l'ordine in cui vanno eseguite le operazioni. Quindi, ripetiamo, se non ci sono parentesi, prima si fanno moltiplicazioni e divisioni, poi addizioni e sottrazioni. Se ci sono le parentesi, vale sempre questa regola, però cerchiamo di capire come dobbiamo comportarci anche con le parentesi. Ecco qui, vedete, questa è un'espressione senza parentesi. Allora, in questo caso, 13 per 5 più 12 per 5, che questi sono i dati dell'esempio sulla corsa di la rissa che abbiamo appena visto. E quindi, prima esegui le moltiplicazioni e le divisioni, se ci sono, nell'ordine in cui sono scritte. Quindi, 13 per 5 fa 65, 12 per 5 fa 60. L'espressione funziona proprio così, no? C'è un calcolo molto lungo sopra, lo smontiamo un pezzo alla volta con i risultati di tutti i vari pezzi. Il più, vedete, rimane e lo riportiamo. Quindi, questo ci dà 65, il più lo portiamo qui. 12 per 5 ci dà 60, abbiamo detto, e l'uguale lo abbiamo portato qui. Poi, esegui le addizioni e le sottrazioni, se ci sono, sempre nell'ordine in cui sono scritte. E quindi avremo 65 più 60, che fa 125. Vediamo adesso come funzionano le espressioni quando dentro ci sono anche le parentesi. Osserva ora questa espressione. 120 meno, aperta parentesi graffa, 25 più, aperta parentesi quadra, aperta parentesi tonda, 14 per 2, chiusa parentesi tonda, più, aperta parentesi tonda, 4 meno 3, chiusa parentesi tonda, chiusa parentesi quadra, chiusa parentesi graffa, uguale. Abbiamo detto che prima si eseguono le operazioni dentro le parentesi tonde. Vedete, in questo caso, dentro le parentesi tonde, abbiamo questa operazione qui e questa operazione qui. E quindi 120 lo riportiamo, meno lo riportiamo, graffa lo riportiamo, 25 più, aperta la quadra, 14 per 2 fa 28, più, che è questo qui, 4 meno 3, che fa 1. vediamo come procedere. Poi quelle dentro le parentesi quadre, quindi il 120 continua ad essere qui, meno, aperta la graffa c'è sempre, 25, lo prendiamo sempre da qui, più 28 più 1, che fa 29, bravissimi, e poi chiudiamo di nuovo la parentesi graffa, perché ormai la quadra l'abbiamo risolta. infine, quelle dentro le parentesi graffe, 120 meno 54, che fa 66, e quindi da tutto questo lungo calcolo di espressione, abbiamo ottenuto come risultato 66. Ora vediamo un esempio che ho preparato io per voi. Ho preparato un esempio lungo, lungo, vedete, guardate che lunga che è questa espressione. Voglio proprio farvi vedere che l'espressione, per essere risolta in maniera corretta, deve proprio essere risolta così, a tappe, a gradini, in qualche modo, e ogni volta, seguendo le regole che abbiamo imparato all'inizio, risolveremo prima le operazioni dentro le parentesi tonde, prima moltiplicazioni, divisioni, poi addizioni e sottrazioni, poi le quadre, poi le graffe. Allora vediamo, aperta parentesi graffa, 25 diviso 5 più 2 per aperta parentesi quadra, 49 diviso 7 più 3 per aperta parentesi tonda, 21 diviso 3 più 3 per 1, chiusa parentesi tonda, più 3, chiusa parentesi quadra, meno 5, chiusa parentesi graffa, diviso 2, uguale. E quindi, vedete, tutto si riporta, prima la graffa, 25 diviso 5 più 2 per quadra, 49 diviso 7 più 3 per, adesso abbiamo risolto queste operazioni dentro la tonda, prima divisioni e moltiplicazioni, 21 diviso 3 fa 7, quindi qui aprirò ancora la tonda, mi porto giù il mio risultato che è 7, più 3 per 1 che fa 3, e chiudo la tonda, questa qui, poi di nuovo coppio più 3, chiuso la quadra, meno 5, chiuso la graffa, diviso 2, uguale. procediamo. Aperta la graffa, 25 diviso 5 più 2 per, aperta la quadra, 49 diviso 7, più 3 per, 7 più 3 della tonda, fa 10, più 3 è questo qui, e lo riportiamo sotto, poi, chiuso la quadra, meno 5, chiuso la graffa, diviso 2, uguale. 25 diviso 5 più 2 per, aperta la quadra, 49 diviso 7, che fa 7, lo scrivo qui, più, lo riporto qui, 3 per 10 che fa 30, e lo scrivo qui, più 3, lo riporto qui, più 3, chiuso la quadra, meno 5, chiuso la graffa, diviso 2, uguale. Andiamo avanti. Aperta la graffa, 25 diviso 5 più 2 per, e mi fermo, adesso risolvo tutta la quadra, 7 più 30 più 3, 7 più 30, 37, più 3, 40. E quindi, vedete, il mio 40 è venuto qui, meno 5, lo riporto, chiuso la graffa, diviso 2, uguale. Abbiamo quasi finito. Adesso, devo iniziare a fare le operazioni dentro la graffa, prima divisioni, moltiplicazioni, poi sottrazioni, addizioni, per cui, 25 diviso 5, che fa 5, più, lo riporto qui, 2 per 40, fa 80, lo riporto qui, vedete, meno 5, non faccio altro che trascriverlo sotto. Chiusa la graffa, diviso 2, dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Allora, tutta questa operazione qui, adesso farà, 5 più 80, che fa 85, meno 5, che fa di nuovo 80, e quindi, infatti, qui sotto, ho messo il nostro 80, diviso 2, l'ho riportato qui, 80 diviso 2, uguale 40. Vedete com'è facile? Alla fine, quando l'ho fatto vedere ai miei bambini a scuola, una bambina mi ha detto, ma come, tutta questa operazione qui, per arrivare a 40? Eh sì, funzionano proprio così, queste espressioni, questo tipo di operazioni. Si parte da un'espressione, da un calcolo molto lungo, e si arriva a un'operazione piccola, e un risultato solo, che è quello giusto. Speriamo, se l'abbiamo fatta bene, e se abbiamo eseguito tutti i calcoli, in maniera corretta. Ma voi siete bravissimi, e sono sicuro che eseguirete, tutti i calcoli, in maniera corretta. Va bene. Allora, magari vediamo qualche altro esempio, tutti insieme, in modo così da vedere i vari casi, che si possono incontrare, nelle espressioni matematiche, e così imparare a risolverle, nel miglior modo possibile. Allora, vediamo la prima. 27 più 36 diviso 9, meno 21 diviso 7, più 13. In questo caso, non abbiamo alcuna parentesi. Allora, dobbiamo procedere. Abbiamo detto, prima divisioni e moltiplicazioni, quando ci sono, nell'ordine in cui si trovano, e poi le altre. Allora, per andare in ordine, qui scriverò, 27 più, abbiamo 36 diviso 9, 9, 18, 27, 36, 4, 27 più 4, meno, 21 diviso 7, 7, 14, 21, 3 volte, più 13, uguale. Allora, arrivati a questo punto, questa si risolve tutta su questa linea, perché ci sono solo addizioni e sottrazioni, e lo dobbiamo risolvere nell'ordine in cui le troviamo. Quindi, 27 più 4, 31, 31, meno 3, 28, 28, più 13, 41, quindi, il risultato, 41. In questo caso, è bastato un passaggio solo. Ma avete visto, non c'erano parentesi, né calcoli particolari da eseguire. Vediamo quest'altra. 75 meno, 6 per 7 più 16, diviso 2, uguale. Allora, partirò sempre dal mio, 75 meno, ora la parentesi tonda, prima le moltiplicazioni, poi il resto. Quindi, se voglio proprio farla in ordine, farò 6 per 7, che fa 42, più 16, chiusa parentesi, diviso 2, è uguale. Andiamo avanti. 75 meno, allora, 42 più 16, 42 più 10, 52, più 6, 58, per cui, 75 meno, 58 diviso 2. Quindi, qui, in questo caso, come vedete, ce l'ho tutta sulla stessa linea, però, mi è comparsa questa divisione, quindi, prima di fare questa sottrazione, dovrò eseguire la divisione. E quindi, anche qui, rimarrà 75 meno, 58 diviso 2, che fa 29, e in totale, allora, avrò 75 meno 29, 75 meno 20, 55, meno 9, 50, meno 4, 46, 46, per cui, 75 meno 29, uguale 46, e anche questa l'ho risolta. Vediamo questa qui, che ha anche le parentesi quadre, che magari funziona in un modo un po' diverso, magari tiriamola un po' su, così evitiamo di andare, sotto, benissimo, allora, ecco qua, allora, 58 meno, qui ho una quadra, con dentro delle tonde, con dentro delle altre operazioni, allora comincio, inserisco la quadra, parentesi quadra, allora, 48 diviso 8, 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 6 volte, 6 volte, più 2 per 9, 18, più 7, meno 23, queste si riportano in questo caso, chiuso la parentesi quadra, UQ uguale, benissimo, 58 meno, ora, tutta la parentesi quadra, quindi, 6 più 18, che fa 24, 24 più 7, che fa 31, 31 meno 23, allora, 31 meno 20, fa 11, 11 meno 3, che fa 8, quindi, 58 meno 8, uguale, 50, e anche questa è andata, vediamo questa qui, con anche le parentesi graffe, così, vi ho fatto un po' di esempi, e può diventare sicuramente più facile, poi, affrontarle tutte, ripeto, seguite bene le regole, addizioni e sottrazioni, nell'ordine in cui si trovano, prima comunque sempre divisioni e moltiplicazioni, sempre nell'ordine in cui si trovano, ok, allora, 8 più 72, allora questo me lo copio, che faccio prima, che andare a cercarmi il simbolo della graffa, ok, 8 più, 8 più, allora, qui posso fare, aperta la quadra, 72 diviso che cosa? 72 diviso il risultato di questa qui, 72 diviso 86 meno 77, 86 meno 77, che fa 9, giusto? sì, perché 86 meno 76 fa 10, meno 1, 9, eccolo qua, 87 meno 70, 86 meno 77, 9, benissimo, per 2, ok, chiusa la quadra, più 12, chiusa la graffa, diviso 2, questo rimane uguale, allora faccio un bel copia e incolla, così, facciamo sempre prima, benissimo, ok, vediamo di andare avanti, 8 più, guardate, sapete cosa faccio? me la copio tutta, e poi cancello le parti, che vado via via modificando, così mi viene più comodo, perché sennò devo inserire le graffe, è un po' scomodo al computer, allora, 8 più, allora, 72 diviso 9 per 2, in questo caso ho una divisione e una moltiplicazione dentro le parentesi quadre, allora in questo caso si risolvono nell'ordine in cui si trovano, quindi avrò 72 diviso 9, 9 per 8, 72, quindi fa 8, e poi mi rimarrà 8 per 2 dentro, ok, più 12 diviso 2, benissimo, questa la ricopio sotto, eccola qua, adesso 8 più, 8 per 2, 16, così elimino anche questa parentesi quadra, più 12, chiuso la graffa, diviso 2, benissimo, ora dovrò risolvere tutta la graffa, per cui 8 più 16, 24, 24 più 12, 36, e quindi mi rimarrà questo 36 diviso 2, uguale 18, tadaaaan, allora abbiamo visto alcuni casi, e dobbiamo ricordarci bene le regole fondamentali, prima divisioni e moltiplicazioni nell'ordine in cui si trovano, poi addizioni e sottrazioni nell'ordine in cui si trovano, prima parentesi tonda e poi parentesi quadra e poi parentesi graffe, rispettando tutte queste regole riusciremo a risolvere tutte le nostre espressioni senza nessuna difficoltà, ecco qui, adesso avete visto, magari l'avevate già visto a scuola, questo è stato solo un ripasso, se qualcuno non l'aveva mai visto è stata una bella novità, adesso avete capito come funzionano le espressioni, vi lascio, vi regalo, questi esercizi che ho preso sempre da terra a mare, così, usando tutte le regole che vi ho spiegato, riguardando questo video, tutte le volte che vi è necessario, che non vi ricordate qualcosa, e che volete ripetere l'argomento delle espressioni, lo riguardate e poi potete provare a risolvere tutte queste espressioni qui che vi ho messo insieme a questo video. Bene, anche questa video lezione si è conclusa, io vi mando come sempre un caro saluto e vi aspetto sempre qui alla prossima video lezione. Ciao a tutti!